Ed eccoci ritrovati insieme, rientro dalla pubblicità, continueremo a parlare di libri insieme a voi. Come preannunciato in apertura lo faremo in maniera particolare tra qualche istante con Ilaria Cazziol che proprio stasera presenterà il suo libro in quel di mattinata, quindi a pochi chilometri da noi. La vedo già collegata al nostro maxi schermo qui alla mia sinistra. Ilaria, buongiorno, mi senti? Dobbiamo perfezionare il collegamento, il bello della diretta come si suol dire. Ecco ne approfitto per ricordarvi che Ilaria è una nomade digitale, ci spiegherà lei stessa che cosa significa e vi posso anticipare che si tratta appunto di persone che lavorano viaggiando. Un po' il tema, uno dei temi che è stato ricorrente durante il periodo della pandemia quando appunto il lavoro da remoto si è resa una necessità e lavoro da remoto che abbiamo come dire tante volte tradotto in inglese con il termine smart working che in realtà non è proprio una traduzione aderente al termine lavoro da remoto ma che raccoglie un universo un po' più ampio. Ecco di questo ci parlerà Ilaria Cazziol che vedo collegata con noi nel nostro maxi schermo. Ciao Ilaria, buongiorno, bentrovata. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sei in viaggio e del resto ne hai fatto quasi una missione di vita e hai concentrato questa esperienza nel libro che presenterai stasera a mattinata. Allora siccome non abbiamo moltissimo tempo ti chiederei intanto che cos'è una nomade digitale e come è nato il tuo libro Destinazione Viaggio, già il titolo è tutto un programma quindi ecco ti lascio la possibilità di raccontarci chi sei, cosa fai e perché come è nato questo libro. Benissimo, allora che sfida in pochi minuti. Io penso che un nomade digitale sia, ho una visione un po' diversa da quella che è normalmente diciamo riportata sui social quindi non è una persona che viaggia necessariamente a tempo pieno ma è una persona, un professionista che lavora con il digitale, lavora con il computer e quindi grazie a questa libertà che garantisce il fatto che il suo lavoro è online non è legato a un luogo specifico può scegliere dove, dovunque sia il proprio ufficio di spostarlo e di spostarsi con esso e questa è una cosa bellissima che ti dà ovviamente una libertà estrema perché nel momento in cui il tuo computer è il tuo ufficio puoi lavorare ovunque come io in questo momento adesso probabilmente non si vede perché c'è troppa luce però sono con, alle mie spalle c'è il Gran Sasso prima di venire giù a mattinata dove arriveremo questo pomeriggio ci siamo fermati nel Gran Sasso e la nostra avventura in questo senso è cominciata nel 2017 io e il mio compagno lavoravamo online lavoravamo appunto già con i temi del digitale in particolare con il marketing e la programmazione però lo facevamo in ufficio, lo facevamo per un'azienda e sognavamo maggiore libertà che all'epoca prima del Covid equivaleva a dover fare il freelance praticamente perché nessuno aveva mai sentito parlare di nomadi digitali era molto molto poco le persone che conoscevano questo concetto e quindi abbiamo deciso di licenziarci e di cominciare a viaggiare siamo partiti per sei mesi siamo stati in giro sei mesi, potevano essere molti di più sei mesi è stato quello che poi il cuore ci ha detto essere il tempo giusto e abbiamo girato tutta l'Asia in quei sei mesi nel frattempo cominciando a cercare di strutturare una professione online perché il fatto che già lo facessimo digitalmente quindi che già lavorassimo con il computer non significa che poi riuscissimo a essere effettivamente nomadi digitali a lavorare dovunque volessimo eccetera c'è tanto da imparare, tanto da scoprire per riuscire a fare effettivamente questo stile di vita ed è tutti i giorni una sfida e quindi quando l'anno scorso poi ho deciso di scrivere questo libro ho voluto proprio cercare di riassumere nelle pagine che ho scritto tutto quello che avrei voluto sapere e non sapevo prima di partire quindi tutto quello che ho imparato in questi sette anni di nomadismo digitale di vita in viaggio che non vuol dire che sono sempre in viaggio ma vuol dire che ho reso il viaggio una cosa sostenibile un qualcosa che posso fare tutti i giorni che posso fare quando voglio che era un po' il mio obiettivo iniziale diciamo e quindi ho cercato di dare, di creare una guida che fosse i passi da seguire in base alla mia esperienza, quella del mio compagno ma anche a quella di decine e decine di persone che abbiamo intervistato in questi anni all'interno del nostro blog viaggiosurandata.it e quindi abbiamo proprio tracciato una sorta di percorso quelli che sono dei casi scuola ecco come si fanno certe cose sia in ambito viaggio quindi come organizzare la partenza come cominciare a staccarsi da quelle che sono le aspettative tipiche di una vita stanziale per abbracciare una un po' più nomade un po' più libera di muoversi, di spostarsi a cui non siamo ovviamente abituati culturalmente e anche legate poi ai consigli legati poi al nomadismo digitale quindi come trasportare online e con sé nel proprio bagaglio il proprio lavoro Molto molto interessante quello che ci stai raccontando per tutta una serie di motivi intanto perché prepararsi al viaggio nella maniera migliore è sempre opportuno e quale periodo più asseccato dell'estate per parlare di questi argomenti ma anche perché molte volte viviamo il viaggio solo come trasferimento quasi asettico privo di emozioni come una pratica da sbrigare al più presto invece con la tua esperienza e il tuo libro il viaggio diventa una destinazione che come accennavi tu impreziosisce il valore più grande che abbiamo che è appunto il tempo e quindi ecco una bella esperienza quella che condividi con il tuo libro e che cosa si devono aspettare io conto, spero di esserci spero di esserci anche io stasera mattinata per ascoltare il tuo viaggio ecco tra virgolette che cosa dobbiamo aspettarci dalla presentazione di stasera Parleremo molto proprio di quello che hai appena detto quindi di come il viaggio non sia semplicemente una vacanza anche un viaggio a medio termine a breve termine anche le due settimane diciamo che consideriamo vacanza possono essere un viaggio inteso come uno strumento di cambiamento che vuol dire cercare di viaggiare in maniera sostenibile cercare di viaggiare in un modo tale che si entra in contatto con la comunità locale magari si fa volontariato si fa un'attività di questo genere io sono molto molto convinta del potere trasformativo del viaggio e quindi questo libro l'ho scritto anche pensando alle persone che magari non vogliono cambiare vita viaggiare, diventare nomadi digitali eccetera ma raccogliere maggiormente i frutti che il viaggio può regalare ecco loro anche in tempi più limitati e questa sera alla presentazione a mattinata cercheremo proprio di concentrarci anche su questo oltre che sull'aspetto del nomadismo digitale che comunque è sempre interessante perché poi adesso parliamo di viaggi perché è estate ma poi settembre è dietro l'angolo quindi anche tornare a un lavoro che ci stimola e che amiamo è importante perché se no si vive di fughe invece è bello che diventi che il nostro lavoro sia comunque qualcosa che riusciamo a rendere parte di noi parte di ciò che siamo e che ci rende felici molto bene Ilaria io ti ringrazio per essere stata con noi stamattina appuntamento quindi stasera alle 19.30 in piazza del Milite ignoto a mattinata noi ci lasciamo anche perché tu tra poco hai una call ossia un'altra videochiamata di lavoro per cui ecco il tuo lavoro non si ferma anche se sei in viaggio come abbiamo appunto spiegato e complimenti per l'energia l'entusiasmo, l'impegno e appuntamento quindi a stasera buon proseguimento di giornata è di viaggio e quindi arrivederci a presto grazie mille, ci vediamo stasera ciao a tutti grazie, grazie a te noi adesso restituiamo la linea alla regia prima del prossimo collegamento attraverso il quale continueremo a parlare di libri per cui restate con noi ci ritroviamo tra pochissimo grazie a tutti